Buonasera e bentrovati da parte di Simone Firelli in live Sport Academy. Comincia il terzo turno per Spagna-Argentina, squadre che stanno ora scendendo in campo. Siamo pronti per incominciare. Buon divertimento. Si può dunque incominciare con la Spagna a muovere il primo pallone di gara, attaccando in tenuta russa pantaloncini blu e calzettoni blu da sinistra verso destra. Da destra verso sinistra invece attaccherà l'Argentina. 40. Invitato a salire davanti a se marino, deve allora aspettare. 40. A sinistra si propone Brunelli, lancio lungo con il destro da parte del settero, è spinto poi Filippetti mette ordine, Brunelli da fuori calcio. Largo. Batte da Argentina, Filippetti. 40. La chiama a destra, Erando servito ora. Il 10 che pensa al tiro e l'effettua Marco. In due tempi la tiene. Erando. Uno sguardo all'area di rigore. Marco la chiama. Ancora una volta. Pulito il portiere nell'intervento. Ripartenza Spagna. 4 contro 4. Qui pallone velenoso. Perso per via centrali. Arriva la rete che sblocca le marcature. Colle vecchio quando sono 10 i minuti sul cronometro. Fa 1-0 Spagna. Dimessa Argentina. Batte Brunelli. 40. Scato libero sulla tre quarti. Prova a calciare. Destro vicino al palo. Si chiude qui dunque il primo tempo di Spagna-Argentina. Scuola riposo sul risultato di 1-0 per la Spagna. Spagna che può ripartire con Colle vecchio. Invito per Sciacca verticale. Chiuso da Filippetti. Ripartenza per l'Argentina. con 40. Disporre il pallone in zona. Brunelli. Brunelli ingressi in aria. Prova a calciare con il sinistro. Brunelli. Trova la rete che vale la parità quando sono 26 sul cronometro. È 1-1 Argentina. Sciacca. Prova ad agganciare Filippetti. Passato alle spalle dal 21. Prova ad aggirarlo. Ci riesce il 6. Può ripartire l'Argentina. 40. Riceve. Prova a liberarsi il destro. ancora 40. Fa tutto da solo. Poi mette un buon pallone verso il centro. Non riesce a correggere Rocchi. Pronto a battere il numero 10. Filippetti. Mette a terra. Passa da Alessandro Filippetti. Può avanzare il numero 6. Aspetta la Spagna nella metà campo. Nella propria metà campo. Poi pallone che emerge ancora centralmente. Riesce Mazza a trovare la via della rete. Ancora però Argentina. Mazza di spalla per Brunelli. Brunelli la piazza con il destro. Vicino al polo. Sciacca. Riceve. Aspetta poi che si posizioni le maglie offensive. Marino. Pescato libero al centro. Prova a mandare con le vecchie. Pensa bianca azzurri. Erando. Avanza. Poi apre a destra. Rocchi. Centrale da Mazza. All'indietro per 40. Che incrocia con il destro. E 2 a 1 Argentina. Quando sono 30 sul cronometro. Ha segnato 40. sale da Argentina. Pachiamo a Erando. Si passa a sinistra da Brunelli. Brunelli. Lob per servire 40. Poi Erando. Centrale da Filippetti. Pensa al tiro. Filippetti. Doppia deviazione. Poi tiro che passa. E si inzaccherete. 3 a 1 Argentina. Goal a metà. Tra Filippetti e Boratta. Punizione Argentina. Pronto Erando a calciare. Marino e Collevecchio. A comporre la barriera a parte. Erando di destro. Vicino all'incrocio. Erando qui svirgola. E la pallone opportunità per la Spagna. Filippetti deve ripiegare e fa bene. Collevecchio riceve da sinistra. Mette la cross per Marino. Aggancia a Sciacca. Poi Paris conclude. Filippetti respinge. Ma non basta. Arriva la rete del 3 a 2. Ha segnato il 9. Edoardo Rinaldi. Rinaldi. Può accendersi il 9. Mette centrale per Sciacca. Poi Collevecchio con un po' di spazio. Collevecchio trova la parità. E 3 a 3. Gran destro qui dell'8. Che si insacca sotto la traversa. Doppietta di Collevecchio. Di nuovo in equilibrio Spagna e Argentina. Filippetti. 40. Protegge il pallone. Brunelli. A liberare il destro. C'è stata la deviazione. Ci sarà. Calcio d'angolo pronto proprio Brunelli a presentarsi sul punto di battuta. Si fa vedere Erando che va ad avvicinarsi. Poi pallone che passa. Attenzione alla serie di rimpolli. E alla fine dovrebbe essere autogol. 4 a 3. In favore dell'Argentina. Forno avanti Biancazzurri. Pronto Rocchie. Parte il 5 lungo con il destro. Prova a mettere giù. Filippetti blocca. Paglia adesso. Argentina che va a sistemarsi. E ammazza a ricevere. Pares. Arriba a andare su. Collevecchio. Prova ad agganciare a sinistra. Pallone che fugge via. Alla disponibilità del lotto. E arrivano anche i tre fischi del direttore di gara. Spagna-Argentina. Dopo 50 minuti a 4 a 3 per gli Argentini.